salve a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale oggi ragazzi come potete ben vedere siamo di nuovo qui su farming simulator 19 nella nostra bella mappa ischia farm ovviamente in compagnia del buon amico del canale stan 84 ciao ste benvenuto nel video nel canale ciao a tutti e benvenuti e grazie a te simulator for life ho visto che l'ultimo video vi è piaciuto che le mucche che abbiamo comprate vi sono piaciute ora cosa dobbiamo fare ovviamente dobbiamo andare avanti con i campi però per andare avanti con i campi abbiamo bisogno di fertilizzare questa quindi è la volta buona per iniziare a usufruire dei liquami dei nostri maialini per farlo ste cosa ci prendiamo ovviamente la botte dei liquami no 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 io pensavo la cariola la cariola mi avevi detto che se vuoi ce l'ho però se vuoi ce l'ho la cariola veramente secchio e cariola mi avevi detto e via allora carro botti liquami ovviamente io non mi vado a prendere quelle classiche raga che sinceramente sono carine ma non mi fanno impazzire ho scaricato due belle botti italiane dato che siamo sulla ischia farm abbiamo la bossini tre assi e la bossini quattro assi io direi che andiamo sul tre assi perché comunque la cavalleria che abbiamo a disposizione non è molta quindi anzi già tre assi probabilmente anche già troppo basterebbe anche un due assi però voglio provare sto bossini che in realtà non l'ho ancora mai provato voglio proprio vedere come si comporta questa è la configurazione abbiamo marca gomme trailer borg e va bene la configurazione ruote è quella standard e ce la teniamo design che dice default a no beh mettiamo default perché è bellissimo con il striscia gialla e striscia verde poi agganci abbiamo interratori supporto per interratori prendo senza così vediamo oggetto bello sparato che dici sì 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 va benissimo e poi mi dice ovviamente oggetto a destra oggetto a sinistra no sistema per concimare a ventaglio così proprio si sente bene e il profumo esatto la fragranza che ne emanerà esatto esattamente esattamente va bene andiamo andiamo subito a vederla se trovo il gamepad eccoci mamma mia che grossa sta botte ma non me l'immaginavo così grossa sinceramente sì che è un tre assi quindi c'era da aspettarsela che di sicuro piccola non poteva essere però devo dire raga che è veramente bellissima la bossini fa delle botti che ecco qua guarda che botte guardano era che botte altro che botti di vino questa e botti di liquami eccoci arrivati allora andiamo ovviamente nella sezione qua della dei liquami e carichiamo liquami 72.000 iniziamo a caricare vediamo un pochettino quanto serve per fare un pieno credo sui 50.000 se non erro forse anche addirittura meno quindi a 25.500 è il il litraggio massimo quindi ancora abbiamo almeno almeno un tre viaggi da farci sempre che non mi incastro magari partiamo subito con questo bellissimo che figata l'ho trattata talmente poco la concimazione dei terreni che neanche me la ricordavo sinceramente bellissimo veramente bellissimo non è molto ampio il ventaglio di liquami però tutto sommato vediamo quanto consuma che ho tolto gli add consumo è abbastanza elevato è quasi come la calce consuma con un carico sono riuscito a fare giusto giusto è comunque il cinquattro per cento mi ha rimasto ma hai concimato tutto sono riuscito a concimare tutto il campo sei e in realtà già che ci sono anche se mi direte lo so non è realistico di qui di là ma io mi concimo anche il campo quello a olive tanto credo sia da concimare se non sì sì però non so se mi fa già esatto però non so se mi fa già concimare devo guardare adesso vediamo il campo lo concima vediamo se sì 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 perfetto ferma perfetto via si parte allora facciamo due file alla volta adesso vabbè qua abbiamo finito due file non ce di roba ho visto che chi impero col mega fend sei tu col vario bellissimo colori a molti mi avete scritto raga nei commenti cambia il new holland e prendi un altro fiat a tua scelta lo faremo perché il new holland effettivamente è un po scarsino mi sembra che c'è neanche 90 cavalli probabilmente quindi non è che fondamentalmente mi serva così tanto ci teniamo il same e ci prenderemo probabilmente un altro un altro fiat adesso dovrò decidere sinceramente non so ancora precisamente quale non mi dite il 180 vi prego perché mi dite sempre il 180 c'è il 180 è bellissimo ma se io in ogni serie devo prendere il 180 abbiamo solo 180 quindi cerchiamo di prendere anche qualcosa di diverso ma stavo pensando a un lamborghini sinceramente è una bella lambo è una bella lambo si esatto a me mi prende una bella ferrarina e siamo a posto facciamo delle su e giù per la ma facciamo tutte le lavorazioni che vuoi se mi prendi una ferrara peccato che mi tocca fare per forza di cose però se io mi metto in mezzo così forse questa qua la riesco a beccare eh forse forse si la becco è abbastanza largo dai si meno male almeno non va persa a metà ultimo pezzetto e via e per il momento con la botte dei liquami abbiamo finito ci siamo liquamati tutto 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 vi faccio vedere ecco qua adesso vabbè questa linetta qui che vedete fa parte del terreno non non piantato quindi non è nulla di che per il resto abbiamo fatto tutto qua perché c'è un puntino rosso non si sa va bene lasciamo stare va allora dove sei tu messere allora sono sul 30 ma devo andare a prendere qualche cosa eh sì l'imballatrice al negozio oh benissimo perché dovete sapere che ste ha preso anche perché non l'avevo detto nello scorso episodio ha preso un una missione a fienagione sul campo hai detto 30 si sul 30 che ci paga un bel po di soldoni dobbiamo fare fieno si fieno e portare dove a vendere a vendere quindi adesso vado a prendermi la mia bella imballatrice che sarà sicuramente quella quadra enorme immagino già sì dovremmo fare poi cambio di trattore esatto perché io con questo trattorino mi sa che non riesco a imballare ole eccoci di qua devo andare allora adesso è meglio che il primo pezzettino non lo prendo perché ho visto che non l'hai sì dovrebbe essere erba il primo eh esatto non lo prendo se no poi mi fa tutta tutta erba ok stiamo andando lento come dei bradipi ma dato che siamo anche in salita ci sta siamo a tre chilometri orari e via ecco va bravo ragazzi praticamente vi ho fatto vedere tutte le lavorazioni eh su sta mappa ci siamo ci mancano giusto le ultime lavorazioni tipo la raccolta delle olive la raccolta delle mandorle le abbiamo vista l'uva l'abbiamo vista insomma non so raga quanti ancora episodi vedrete eh comunque secondo me siamo già quasi alla fine della serie dobbiamo vedere giusto le ultime cose e poi direi che ci siamo sì non abbiamo visto coltivazioni tipo cotone tipo stavamo vedendo lì come si chiama le canne da zucchero ma con l'ultimo update poi me le hanno tolte quindi non le abbiamo più viste però poi effettivamente quelle si possono vedere su mappe un po' più adeguate la più adatta per fare la lavorazione hai messo le mani in pasta dappertutto esatto prego prego faccia retro prego perfetto ti lascio il trattolino ti sei ripulito le scarpe prima di salire? sì 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 certamente è la prima cosa che ho fatto si sente la differenza dai tre chilometri che andavamo siamo a venti intanto il mio cane non fateci caso ma fa tanto fa sempre parte del contesto oramai devo dirti che sento anch'io la differenza dal da prima ad ora eh eh sì ma si faccia fatica con con ragninatore eh figurati con un'imballatrice due assi ah una cosa raga quasi quasi mi dispiace sempre questa cosa dei sondaggi veramente mi dispiace però fatemi sapere nei commenti quale nuova mappa vi piacerebbe vedere all'interno del mio canale nel senso eh abbiamo trattato la Stappenbeck abbiamo trattato la Camping of France stiamo trattando adesso la Ischia ma ve l'ho detto siamo oramai alla fine di di questa mappa eh cosa stiamo trattando con la mini Brun eh consigliatemene un'altra raga perché vorrei ovviamente poi a un certo punto della vita dovrò sostituirla sta Ischia Farm quindi consigliatemi una mappa da sostituire alla Ischia Farm magari sempre in eh multifruit tipo questa qua con colture diverse eh fatemi sapere voi fatemi sapere voi ho visto sul moddub che c'è la coronella 2.0 che ha la possibilità di seminare ceci e lenticchie fatemi sapere se siete interessati la la coronella 2 l'ho provata non è non è così male devo dire che hanno risolto anche parecchi bug però lascio la scelta a voi non vi do nessun cioè carta bianca come si dice fatemi sapere la mappa che magari vi piace di più insomma fatemi sapere voi quella che poi ovviamente vincerà eh se ce ne sarà mai una che vincerà se no deciderò io eh ovviamente verrà verrà portata nella serie successiva alla Ischia bene e il vincitore riceverà un bel premio esatto un bel prosciutto di Parma direttamente dagli allevamenti dalla Ischia dalla Ischia Parma esatto e già che siamo in tema così almeno ce lo leviamo almeno poi quando si può fare i saluti ce lo siamo tolti perché veramente secondo me questa cosa di sta prendendo un po' una piega strana eh devo dire un pochettino una piega strana comunque a parte gli scherzi raga ve lo dico così al volo vi ricordo in descrizione sia i link utili sia il link delle donazioni che il link diretto per il canale di Stan in più ovviamente vi ricordiamo eh prego figuriamoci in più ovviamente vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto di lasciare un bel like di commentare fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente della puntata e fatemi sapere eh di questi sondaggi che vi ho chiesto durante durante la puntata inoltre vi ricordo ovviamente di condividere il video con tutti i vostri amici e di attivare la campanellina così non vi perdete nessun aggiornamento dai ce la siamo ce la siamo semplificata un po' no? che ne dici? ce la sei messa nel video in mezzo proprio buttata lì ah si dai sta diventando un campo di di una rottura di esatto esatto mamma mia avanti te ne hai fatte e ancora non è finita ancora non è finita lui va giù tutto bello spedito ma tu pensa che poi dobbiamo anche raccogliere tutte queste qua finire abbiamo finito ci siamo caricati ancora un bel po' di balle io faccio una bella furbata lascio qui l'imballatrice la stacco proprio a mo' di non so la staccassi a morsi esatto eh ma quasi eh quasi 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 ora andiamoci a prendere il carrellino autoload però dov'è il carrellino mo? ho trovato si dagli allevamenti allora io ho scaricato però si ho visto 14% trasportato questo ti fa capire la quantità di viaggi che dovremmo fare per arrivare al 100% minimo 600 viaggi per cui sapete quanti like dare esatto ogni viaggio è un like quindi cerchiamo di fare fai metacarico va fai metacarico e vai a scaricare con metacarico va ok l'ho settato adesso ovviamente ci andiamo ad attivare la il carrellino e ci andiamo a recuperare tutta uh 12 balle io posso prendere va bene dai tanto questo ne porta 16 per cui ah vabbè poco meno dai quindi va benissimo 4 5 va guarda lì bello spedito vado anche carico un po' meno di te ma sono direi il doppio più veloce più veloce ok e primo carico fatto le prime 12 balle ce le siamo caricati non sto raga a togliere lo tengo così perché sennò poi il come si chiama qui l'equilibrio del no del trattore del rimorchio andrebbe un po' a conto suo per non dire altro uè occio occhio occhio ho visto proprio un trattore spedito di fronte a me ho detto all'è è la fine altro che ischia farm paradise farm facciamo allora queste stradine non aiutano eh esatto dobbiamo scaricare qua il fienile ne si quando entri a destra quando entro a destra ah ok lì perfetto vediamo se mi da già la possibilità di scaricare ma non credo devo spegnere e staccare oh 40% bene siamo già al 40% ciò vuol dire che qualche balla credo potremmo anche vendercela sei già pieno di nuovo e 7 adesso stai arrivando e no no sono già quasi pieno 8 tu sei carico già yes a lei allora andiamo insieme no invece ne manca una e vai allora carica al volo così al volo così al volo a lei ok raga questo penso sarà l'ultimo scarico sia da parte mia che da parte di ste perché siamo arrivati a un'ora e siccome non voglio lo sapete rendere troppo lunghi i gameplay stacchiamo poi ah già che lui ha lo scarico un po' più lento che deve prima fare così poi colì si allora attendiamo all'ingresso come si ok 54 ciò vuol dire che io più o meno dovrei arrivare al 60% 62 65 ok abbiamo ancora un paio di scarichi almeno prima di arrivare all'ultimo scarico quindi ancora almeno 3 scarichi va bene ste se ti fermi un attimino salutiamo i ragazzi e così ci vediamo alla prochaine e via che corre va bene ovviamente io ti ringrazio ste di nuovo per la compagnia grazie a te invece grazie per la compagnia e per l'aiuto ovviamente che mi stai dando perché veramente senza di te e queste elaborazioni me le sei tranquillamente scordato o probabilmente magari le avrei fatte ma ci avrei messo 18 puntate quindi ecco va bene dai io ragazzi ovviamente vi ringrazio vi rinnovo l'invito di andare sul canale di ste perché pubblica simulatori oramai lo sapete più o meno quelli gli stessi giochi che porto io quindi vi consiglio di andarvelo a vedere perché è veramente top come si dice no? grazie grazie e figurati io ti ringrazio ancora e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti